E' tempo di derby nel campionato di Cigold, è tempo di Bama Centro Minibasket Genova o ancora meglio Alto Pascio contro Lucca. Si affrontano le due principali realtà maschili del basket della nostra provincia, ognuna tra l'altro obbligata a vincere per centrare un traguardo. Il Centro Minibasket di Coccia e Piazza, grande ex di giornata al pari di Danesi, Doni e Benini, cerca il quarto posto che arriverà a patto che i biancorossi riescono a vincere due delle tre partite in programma nel breve volgere di una settimana. Oltre al Bama seguiranno giovedì la sfida in casa contro l'Olimpia Legnaia e poi domenica 9 aprile ancora in trasferta a Castelfiorentino in un vero e proprio scontro diretto. Settimana in vero molto complicata anche per il Bama Alto Pascio di Coccia e Tonti, dopo essersi sciroppati il derby, rosa blu saranno infatti di scena ad Empoli nel turno infrasettimanale e chiuderanno il loro tour de force ospitando la capolista Pielle Livorno in un trittico di gare francamente quasi proibitivo almeno sulla carta, ma chissà che il parquet non esprima magari un verdetto diverso. Annotazione finale dal pallone a spicchi racconta, nel match di andata giocato al pala tagliata era il 17 dicembre scorso, la G9 bella meglio sul Bama 71-64, ma fu gara assai combattuta che la squadra di piazza riuscì a far sua solo nel finale.